e benvenuti al nostro TG Sport cari 25esima giornata nel girone sud della serie A2 femminile Atene e Roma, Cuscaiari Bologna, Selargius, Elite Roma Faenza, Forlì, Cessistica Orvieto, la Molisana Campobasso Civitanova Marche, Palermo Spezzina Pistoia, Umberti, San Giovanni Valdarno, Cessistica Savonese Il campionato per la Molisana Magnolia Campobasso riprende dal Palavazzieri contro il Civitanova Marche Voglia di chiudere nel migliore dei modi questo intenso mese di marzo, 5 le gare in agenda 4 quelle già giocate Fino a questo momento la Molisana Basket Campobasso ha conquistato solo un successo a Savona, per il resto 3KO Bologna e Faenza in campionato e la sconfitta nella Final Four contro il Moncalieri Domani al Palavazzieri arriva il Civitanova Marche Siamo agli sgoccioli della stagione 6 le gare al termine della Regular Season e testa della classifica da condividere con il Palermo Siciliane domani impegnate in casa con la Spezia Se al Palavazzieri si scenderà in campo alle 18.30 al Palamangano la Palla 2 sarà data mezz'ora più tardi L'ultimo referto rosa nell'impianto di Via Svevo risale ad oltre un mese e mezzo fa il 9 febbraio contro l'Elite Roma Per coach Sabatelli in settimana sono giunte ottime notizie dall'infermeria Elisa Mancinelli ha ripreso a lavorare a pieno col gruppo e domani tornerà ufficialmente a disposizione Si allungano le rotazioni dei fiori d'acciaio che hanno sofferto e non poco l'assenza dell'esterna Il Civitanova Marche arriverà in Molise con alle spalle 15 giorni di sosta che gli hanno permesso di recuperare le energie in vista di questo rush finale di stagione Domani ad arbitrare la Monisana Basket Campobasso e Civitanova Marche sono stati disegnati Marino Colardo di Ruvo di Puglia e Adriano Acella di Corato Calcio di Serie D la capolista Cesena ospite del Campobasso Isenna impegnata all'Ancellotta con il Giulianova Agnone Aiesi Il lupo contro il Cavalluccio possiamo scomodare anche la zoologia per descrivere Campobasso Cesena di dopodomani a Selvapiana a fare i puntati sul Molise dove certamente passa pure un pezzo di promozione in Lega Pro della squadra allenata da Peppe Angelini quest'ultimo non può non essere sulla graticola il suo Cesena è sì primo ma non senza accusare qualche colpo a vuoto non ultimo il KO inaspettato ad opera del Pineto che si ricorderà a lungo di aver violato domenica scorsa il Manuzzi di Cesena Bagatti chiede ai suoi giocatori una prova di forza e di intensità contro i primi della classe agli ultimi lavori non hanno preso parte di Paolo e Salvatori ormai degenti di lunga data e lo stesso difensore La Barba che però potrebbe comunque essere disponibile per domenica pomeriggio è stata una settimana molto movimentata anche per la società che ha dimostrato di essere sensibile rispetto alle istanze dei tifosi da esempio il ripensamento ultimo sul piccolo incremento che era stato applicato sui prezzi dei biglietti inoltre l'ennesima tegola di non poco conto ha riguardato l'avvertenza presentata dall'ex attaccante evacuo al giocatore dovranno andare circa 11.500 euro un qualcosa di preventivato ha ammesso la società ma aggiungiamo noi il conto da saldare per il passato rimasto in sospeso non solo non termina mai ma sta diventando salatissimo ci riferiamo non solo ai compensi non corrisposti ai giocatori ma anche alle multe cadute sul capo della società per inadempienze di altri un fardello che davvero in pochi si sarebbero sobbarcati il tutto a causa di gestioni che definire allegre è poco e che per fortuna sono da relegare ad un passato che è meglio se possibile dimenticare in fretta la tifoseria dovrà rispondere presente in massa contro il Cesena di Capitane De Feudis e del portiere Agliardi che può vantare quasi 100 presenze in serie alcune delle quali proprio con la maglia dei bianconeri nella massima serie la sfida ha un suo fascino anche per gli stessi tifosi del cavalluccio che hanno iniziato ad organizzarsi già poco dopo la fine della partita di domenica la gara è sentita anche da parte romagnola per cui è lecito attendersi pure un massiccio afflusso di tifosi ospiti un qualcosa di anomalo rispetto agli standard del girone F della serie D ma che certamente potrà giovare al clima di domenica sugli spalti e perché no anche al cassiere di Selvapiana Isernia e Dagnone vivono due situazioni distinte in alto Molise Foglia Manzillo prepara con grande applicazione la trasferta di Iesi si è avuto il riscontro sull'infortunio di Litterio il difensore ha effettuato la risonanza da cui non c'è nessuna lesione il ginocchio rimane gonfio si è trattato di una brutta distorsione che potrebbe tenere lontano dai campi Litterio per tre settimane Foglia Manzillo si augura di poter recuperare il giocatore poco dopo le festività pasquali Alcarotti potremmo rivedere una formazione non molto diversa da quella che ha battuto la Savignanese con il probabile ritorno al centro della difesa di Cassese in sostituzione del giocatore infortunato in attacco dovrebbero esserci conferme per Ancora e Formuso con De Zai pronto eventualmente a subentrare a gara in corso Iesi sarà crocevia importante per le sorti agnonesi prima dei due derby consecutivi contro Campobasso prima Isernia Poi proprio i pentri stanno affinando le armi in vista del Giulianova in un clima sicuramente non semplice la tifoseria non ha digerito il K.O. a Castelfidardo tanti sono stati i fattori messi sul banco degli imputati non ultimo il fatto che i fidardensi non vincevano in casa addirittura dal mese di novembre l'Isernia a suo malgrado ha dovuto aggiornare la statistica in favore della cenerentola del girone l'Isernia dovrà provare a capitalizzare almeno le partite interne tutto sommato a quota 30 i biancocelesti non sono da soli ma in compagnia di altre tre squadre domenica contro il Giulianova non esisterà altro risultato che la vittoria i giuliesi hanno dimostrato tutta la loro rabbia contro il Campobasso domenica scorsa ma all'Ancellotta saranno privi di Crisci e Tozzi Borsoi il primo squalificato per quattro giornate per aver spintonato l'arbitro dopo aver ricevuto il cartellino rosso la sfida al Giulianova si colloca prima della trasferta di Avezzano altro bivio stagionale per i pentri ma anche per la squadra abruzzese che non riesce più a rialzarsi da una crisi nera calcio giovanile la scuola calcio elite Acli Campobasso nei giorni scorsi ha svolto un incontro sulla metodologia dell'allenamento con relatore Marco Maestripieri un appuntamento formativo organizzato con lo scopo di supportare il lavoro quotidiano svolto dai tecnici preparatori atletici e staff che operano nei settori giovanili intanto lunedì dalle 15 alle 17 al campo Acli ci sarà uno steggio con il Teramo Calcio Calcio a 5 sosta nel campionato di Serie B terminati invece i tornei regionali turno di sosta nel campionato cadetto di Fuzz alla tre giornate dalla fine penultimo stop prima del termine della regular season sì perché si tornerà in campo sabato 6 aprile poi nuova sosta il 13 del prossimo mese infine ultime due gare il venerdì santo 19 aprile e chiusura finale il 27 insomma un vero e proprio spezzatino con la prospettiva di recuperare energie e qualche acciaccato in vista del finale di campionato l'auspicio è che sia il Cusmolise che la Chaminade possano giocare la post-season playoff la lotta è serrata con diverse compagini in lotta per un posto al sole e giocarsi la possibilità della promozione in A2 tramite gli spareggi il team di Sanginario reduce dalla sconfitta contro il Lucrezia vuole mantenere il secondo posto in classifica l'obiettivo assolutamente alla portata con due gare consecutive al pala Unimol Gubbio e Derby con la Chaminade prima della chiusura con Rinaldo insomma il secondo posto passa dal parquet di casa con la possibilità concreta di giocare la post-season con vantaggio rispetto a tutti la Chaminade con due vittorie consecutive e due scontri diretti con Faenzi e Chieti si è rilanciata alla grande al momento quarto posto in coabitazione con il Cus Sancona per una classifica davvero corta nelle prime posizioni nel momento decisivo i Rossoblu hanno ripreso forza e vigore dopo un avvio di 2019 assolutamente da dimenticare il cammino è ancora lungo e impegnativo il calendario prevede due trasferte Lucrezia già campione poi derby e infine chiusura al pala silvapiana contro l'età beta football che al momento è sotto di due lunghezze ma con una gara da recuperare insomma la sosta dovrà essere sfruttata al massimo per prepararsi a tre match di assoluto livello infine chiosa sui bulldog di Lucrezia che hanno festeggiato sabato scorso l'accesso in A2 con un più 12 proprio sui cussini attualmente secondi un cammino sempre al vertice per una promozione meritata sul campo per quanto riguarda il campionato di serie C regionale si è chiusa la regular season si tornerà in campo per i playoff tra due settimane sabato 13 aprile nel girone A qualificate Sporting Venafro Venafro FC Fossaltese e Castel del Giudice nel girone B accedono agli spareggi Torre Maggiore Fuzza al Montenero Montorio nei Frentani e Castel Pagano con gare incrociate tra i due raggruppamenti per la Final 8 per quanto riguarda la fase nazionale della Coppa Italia risultato storico per lo Sporting Venafro prima squadra molisana ad approdare alla Final Four nel fine settimana prossimo 6-7 aprile si disputeranno le gare bianconeri in compagnia di Limatola Vicenza e Piacenza un parterre importante dopo aver eliminato Gubbio e Carboniano la società venafrana ha presentato la candidatura per ospitare le gare in Molise e notizia di ieri sera la divisione nazionale ha accettato la proposta e dunque il prossimo fine settimana al pallafrarraccio di Sernia si giocheranno le gare delle finali di Coppa nel caso di vittoria della Final Four sarà automatica la promozione in Serie B e lo Sporting non dovrà partecipare ai play-off di campionato Ancora calcio giovanile agenda ricca di appuntamenti per la scuola calcio i Sanniti dal 17 al 19 le squadre Pulcini 2010-2008 saranno a Ischia per il Memorial Giovanni Oranio organizzato dalla società Mondo Sport la categoria 2010 dovrà vedersela tra le altre anche con la Juventus e la Roma i classe 2008 si troveranno invece di fronte Sampdoria Venezia e Pescara dal 25 al 28 i Sanniti Calcio saranno di scena alla mezza termine in una manifestazione internazionale con 64 squadre 7 nazioni partecipanti e 16 formazioni professionistiche tra queste ci saranno Roma Juventus Milan Inter Genoa il torneo calabrese è riservato alla categoria Pulcini 2008 a maggio poi la scuola calcio tornerà nuovamente a Ischia dove la Mondo Sport ha organizzato un torneo per la categoria esordienti 2006-2007 con squadre professionistiche tra le quali Napoli e Juventus e non solo campionati regionali si apre domani l'undicesima di ritorno avrà inizio domani l'undicesima giornata del girone di ritorno dei campionati di eccellenza e promozione molisani 7 in totale gli incontri previsti partendo dalla massima serie regionale al Castaldi di Rocca Ravindola si disputerà uno scontro tutto al vertice tra Vasto Girardi e Boiano gli undici di mister Farina dopo aver portato a casa la ventiduesima vittoria di campionato nella scorsa giornata hanno già avviato i festeggiamenti per la promozione in serie D a cinque giornate dal termine della stagione e con 69 punti in classifica infatti la corazzata giallo celeste ha già tutti i numeri per laurearsi campione di eccellenza se per i padroni di casa quindi la partita di domani non rappresenta un obiettivo fondamentale per gli ospiti sarà l'occasione di conservare il proprio status quo in seconda posizione una sconfitta dei bianco-rossi infatti potrebbe favorire il roseto che si trova ad una distanza di soli due punti designato direttore di gara il signor Totaro della sezione di Lecce match casalingo per il Venafro che ospiterà la Frentania entrambe le divisioni sono reduci da sconfitta e scenderanno in campo alla ricerca di punti importanti necessari ai bianco-neri per difendere il posto destinato agli spareggi playoff e altrettanto utile alla rosa ospite per allontanarsi dalla zona play-out lo scontro diretto è affidato a fattore della sezione di Sernia il Rocca Sicura partirà in trasferta verso Campobasso per affrontare le Acli Campo di Pietra il sonoro 3-1 incassato sei giorni fa contro il Roseto non ha giovato il morale della squadra di Mister Bonomi scesa in sesta posizione e quindi al momento non più inclusa nei play-off di promozione d'altro canto i Rosso-Blu forti della vittoria contro il Riccia saranno determinati a proseguire la loro ascesa e di certo non concederanno sconti arbitrerà il match matarese della sezione di Termoli l'ultima della classe Alife affronterà il Treppini Matese il destino della rosa casertana sembra ormai già segnato a 5 giorni dal termine del campionato infatti la compagine figura ancora in posizione di retrocessione diretta con 0 punti il Treppini invece con alle spalle un percorso altalenante vorrà riscattarsi dall'ultimo pareggio avvenuto contro l'FVP Matese e portare a casa i tre punti dirigerà la gara aurisano della sezione di Campobasso a chiudere il quadro degli incontri di eccellenza FVP Matese Pietra Montecorvino i rossoneri faranno bene a continuare il trend positivo delle ultime settimane affinché possano consolidare definitivamente l'allontanamento dal rischio play out per i padroni di casa invece questo non è stato un periodo facile caratterizzato da continui sconfitte interrotte unicamente dall'ultimo pareggio il peso della penultima posizione in graduatoria potrebbe farsi sentire ma con ancora almeno 5 incontri davanti il futuro resta ancora tutto da scrivere designato arbitro il signor Romei della sezione di Sernia scendiamo ora in promozione dove sono previsti solo due anticipi il baranello ospiterà il ripalimosani la squadra di mister Emanuele Di Chiro può ritenersi soddisfatta dei risultati finora raggiunti con 54 punti infatti si trova in terza posizione vicina quindi agli spareggi per la promozione in eccellenza lo stesso si potrebbe dire della formazione ospite che nonostante non vanti gli stessi numeri dell'avversaria sta svolgendo un ottimo campionato avvicinandosi gradualmente ai playoff la direzione del match è affidata a Gizzone della sezione di Sernia l'ultima gara riguarda Campobasso 19-19 polisportiva Fortore entrambe le compagini sono reduci da sconfitta e proveranno a riscattarsi la rosa ospite lo farà in ottica salvezza trovandosi a soli due punti di lontananza dalla zona playout i padroni di casa invece mireranno ad ottenere quanti più punti possibili per consolidare la loro permanenza in promozione fischietto di gara il signor Pasqua della sezione di Termoli Il Vasto Girardi promosso da domenica scorsa matematicamente in serie D programma già il futuro Presidente di Lucendo ho beccato io l'acqua giornata storica si sente ancora il tipo giornata storica per Vasto Girardi vittoria sul campo della Frentania orecchio a Boiano dove arriva risultato quello che speravate cioè la non vittoria dei Matesini e virtualmente e matematicamente aritmeticamente il termine giusto campionato di serie D per la tua città si per il mio paese mi piace chiamarlo paese perché noi continuiamo a essere un paese diciamo oggi è un giorno importante è una vittoria che inseguiamo da qualche anno ci abbiamo sempre creduto non ci siamo mai tirati indietro come società e penso che raccogliamo i frutti di tanti anni di un'intera comunità e anche di un intero territorio lo sapete bene che il mio modo di fare calcio è mirato a quello di attrarre verso le nostre zone povere dell'interno almeno quella speranza per continuare a sopravvivere e speriamo che attraversi il calcio attraverso la serie D qualcosa si muova l'anno prossimo in Alto Molise a vasto girare siete un po' la Juventus del campionato di eccellenza molisana ti aspettavi di anticipare i tempi alla 25esima giornata alla fine della 25esima giornata devi già incominciare a pensare al futuro guarda nel momento in cui abbiamo fatto la scelta di farina penso che avevamo già dato un'impronta importante al campionato avevamo scelto un allenatore vincente un allenatore che conosceva questa categoria che conosceva il nostro campionato e che ha dato un'impronta importante alla squadra non abbiamo fatto grosse rivoluzioni abbiamo preso qualche giocatore che aveva già vinto i campionati a dire il vero non ci aspettavamo un distacco così largo però sapevamo già dall'inizio che quest'anno fermarci non dico che era impossibile ma ce ne voleva tanto e adesso sta già pensando il futuro ma diciamo qualche chiacchierata già ce la siamo fatta col mister e con il direttore il nostro primo impegno è quello di portare a termine il campo sportivo di Vasto Girardi per fare la D su da noi e poi organizzare la società perché sappiamo bene che la Serie D non è l'eccellenza quindi chiederò l'aiuto di tutti i miei compaesani affinché riusciamo a dare un minimo di organizzazione alla nostra squadra e poi arriveranno sicuramente i giocatori perché faremo di tutto per rimanere nella categoria la statua al presidente di Lucente quando la faranno a Vasto Girardi ma no nessuna statua io mi sono sempre sentito in dovere di dare al mio paese alla mia gente quello che posso dare mi sono sempre messo a disposizione politica calcio e se come me anche altri lo facessero sinceramente il nostro Molise forse può fare quel salto che gli serve per sopravvivere domani proprio il Boiano farà visita al Basto Girardi Antonio composto da molti giovani secondo in classifica probabilmente se vi avessero detto così all'inizio del campionato nessuno di voi ci avrebbe creduto esatto è come se stessimo vivendo un sogno per noi non ce l'aspettavamo all'inizio dell'anno sapevamo di fare un buon campionato però non a questi livelli stiamo vivendo veramente un sogno prossima tappa Basto Girardi contro la prima della classe che partita ti aspetti? noi affrontiamo le partite come se fossero le ultime quindi giochiamo come se fosse l'ultima partita ci metteremo sempre il cuore seconda gara interna consecutiva per le Acli Campo di Pietra domani arriva il Rocca Sicura Camine Guglielmi attaccante del Campo di Pietra adesso Camine con 34 punti non è proprio matematica però siete a buon punto tutto un interno però dopo avrete Termuri e Sesto Campano partite non semplicissime però comunque 34 punti è un buon bottino sì credo che siano tutte squadre alla nostra portata perché ripeto come quando sono arrivato alla prima partita ho detto che questa squadra aveva tanta 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 qualità perché ci sono dei ragazzi giovani che hanno fatto hanno avuto dei trascorsi importanti sui quali si si può lavorare stiamo lavorando di conseguenza ti ripeto saranno squadre alla nostra portata però sono convinto che da qui alla fine possiamo toglierci qualche soddisfazione continuare su questa strada che ci vede dal mercato di riparazione se non sbaglio in una virtuale classifica dovremmo essere secondi o terzi quindi a dispetto dei tanti risultati positivi che abbiamo fatto quindi non dobbiamo assolutamente accontentarci e continuare su questa strada Adessi un mini camminato di cinque partite fare il più punti possibile ovviamente sì ripeto te lo ho appena detto mettiamo nel mirino il massimo perché è giusto che noi ci dobbiamo togliere le soddisfazioni che in questo momento noi meritiamo perché lavoriamo tanto che lavoriamo bene e quindi è giusto che noi non ci accontentiamo non ci culliamo sugli allori sul fatto che magari abbiamo un piede mettiamola così un piede nella salvezza ma io spero di arrivare a qualcosa di più per la Frentania trasferta impegnativa a Benafro Gianluca Potente di manager della Frentania arriva questa sconfitta sicuramente alla preventivata anche se comunque ha giocato una buona Frentania per oltre un'ora in campo ma sì preventivata sappiamo tutti chi è Vasso Girardi l'ha detto poco fa il presidente una signora squadra una corazzata e ci volevamo togliere diciamo il granellino come si suol dire però la corazzata è questa abbiamo provato di tutto pur di metterla in difficoltà ci siamo riusciti comunque vada perché hanno avuto un po' di difficoltà secondo tempo siamo crollati perché il primo tempo abbiamo dato molto però diciamo che alla fine perdere il 2 a 1 contro una signora squadra come Vasso Girardi in questa stagione per noi è un buon risultato ti ho visto per tutta la partita incollata al telefono alla radio linea per sapere gli altri risultati diciamo che una giornata è andata bene perché le altre bene o male hanno perso quasi tutte diciamo che siete ancora fuori dai giochi dei play out sì sicuramente non era oggi che dovevamo guadagnarci punti per salvarci automaticamente le partite nostre sono ben altre però diciamo che giocare per un bel po' di tempo contro la corazzata Vasso Girardi ci dà onore e ci dà anche forza per il proseguo e la fine del campionato da sportivo quale sei è giusto che il Vasso Girardi ha vinto questo campionato credo che sia la squadra sia stata più costante per tutto il campionato ma credo di sì credo che i risultati parlano chiaro una differenza tra la prima e la seconda enorme diciamo che fino a qualche giorno fa qualche giorno fa il Vasso Girardi in Italia è una delle sei che non ha ancora perso una partita in tutta Italia quindi anche più forti della Juve se vogliamo farci una risata ovviamente uno squadrone che per questa categoria quest'anno ha dato diciamo lustro perché è una grande squadra però il campionato l'ha spezzato dalle prime giornate di campionato Torneo di promozione l'Aurora Capriatese vuole mantenere il secondo posto per la promozione diretta Raffaele Ronghi dirigente dell'Aurora Capriatese è terminata in pareggio 1 a 1 la gara del Ripalimosani continua la vostra corsa c'è il Vairano che è primo in classifica qual è l'obiettivo della Capriatese? L'obiettivo che dire è sempre quello di puntare alla vittoria del campionato ormai noi punteremo alla seconda posizione e quindi a salire anche noi in eccellenza Il prossimo turno contro il Trivento ormai siamo quasi alla fine del campionato Sì contro il Trivento daremo il tutto per tutto daremo il tutto per tutto appunto per allungare le distanze con il Baranello e casomai diciamo esultare prima del tempo la vittoria del campionato anche noi la vittoria anche se non arriveremo primi forse però comunque è sempre una vittoria Il Ripalimosani a Baranello per mantenere accese le speranze della disputa dei play-off Diego D'Agostino è terminata in pareggio la gara tra Ripalimosani e l'Aurora Capriatese un punto infatti che vi permette di andare avanti di sognare appunto ancora i play-off la salvezza ormai l'avete raggiunta Diciamo che forse manca qualche punticino per la salvezza però diciamo che tutto può succedere speriamo che alla fine riusciremo a rientrare nei play-off e ce la andremo a giocare sicuramente Mancano pochissime gare al termine del campionato la prossima contro il Baranello uno scontro diretto Sì assolutamente anche loro sono una signora squadra stanno facendo un campionato strepitoso e sarà una vera battaglia quindi ci prepareremo al meglio Motociclismo nuova stagione nuova organizzazione per le Lady Biker Molise che hanno costituito un'associazione sportiva insieme ai loro Friends stilato già il calendario degli appuntamenti si parte domenica direzione costiera Amalfitana Bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio